Sono contento perché stavolta ho portato tre punti, sono molto contento, è stato anche un bel gol, prima ci avevo provato ma non è andata bene, ci ho riprovato, quella volta ho fatto un gran bel gol, sono contento ed è una vittoria sicuramente che vale doppio. Sì, ci fa finire il giorno d'andata con tre punti in più, sicuramente potevamo avere una classifica migliore, però da una parte siamo contenti, abbiamo finito il giorno d'andata adesso con tre punti, quando riprenderemo secondo me sarà un giro di ritorno di un'altra faccia, questi tre punti secondo me valgono tanto perché comunque sia loro sono una bella squadra compatta che sicuramente dà del filo da torcere a molti altri e quindi ripeto, è stata una bella vittoria sofferta perché è stata sofferta però sicuramente è bella vittoria, ho dedicato il gol a mia fidanzata però l'avevo promesso anche mio fratello che ha compiuto gli anni 25 dicembre quindi diciamo che è stato un regalo anche per lui e poi sì, è stata un'esultanza di gruppo perché magari non stavamo passando un momento bellissimo e quindi ci voleva la forza di tutto il gruppo e noi soltanto col gruppo riusciremo a toglierci di grandi soddisfazioni. Grazie. 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 Grazie.